La speranza cristiana è l'ancora che dà il senso alla vita, la riflessione del pontefice durante la Santa Messa nella chiesa del Camposanto Teutonico in Vaticano. Nella sognità di tutti i santi il Vescovo Tanasini ha esortato i fedeli a rivolgere lo sguardo al cielo, anche la tribolazione del tempo presente al suo sbocco nella gloria della vita beata. Siamo tutti chiamati alla santità, all'Angelus Domenicale, il Papa ha indicato nelle beatitudini il modello di vita da seguire. RSA e strutture assistenziali al centro dell'attenzione per casi di Covid al loro interno, diversi casi nel Tiguglio, oltre a questo cresce la difficoltà per la carenza di infermieri e di osso. Ripartito a Sesti Levante il servizio di sostegno a medici e infermieri impiegati nei reparti Covid dell'ospedale, ha a disposizione i primi 20 posti in una struttura alberghiera. Chiavari c'è il progetto per ristrutturare la piscina del Lido, previste due vasche all'aperto, locali spogliatoie e zona ristoro. Il costo è poco inferiore ai 4 milioni di euro, può essere pronta in due anni. Una passerella ribaltabile, Santa Margherita Ligure lancia l'idea per il collegamento pedonale di paraggi. A due anni dalla mareggiata, Telepace torna nei luoghi più colpiti. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Oggi, il giorno in cui si commemorano tutti i defunti, il Pontefice ha presieduto la Santa Messa nella chiesa del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto nel Vaticano. Francesca ha quindi visitato il cimitero e reso maggio alle tombe dei suoi predecessori. Nel servizio la sintesi dell'omolia pronunciata a braccio dal Santo Padre. La vediamo. Nella Messa di commemorazione dei fedeli defunti presieduta nella chiesa del Camposanto Teutonico in Vaticano, il Papa fa sue le parole di Giobbe. Io vedrò, mio Redentore, con questi occhi che vedrò. Questa certezza, sottolinea Francesco, quasi nel momento della fine della vita è la speranza cristiana, una speranza che è un dono. Noi non possiamo averla. È un dono che dobbiamo chiederlo. Signore, dammi la speranza. Ci sono tante cose brutte che ci portano a disperare, a credere che tutta sarà una sconfitta finale, che dopo la morte non c'è nulla. E la voce di Giobbe torna, torna. La speranza ci attira verso la vita. È un'ancora che noi abbiamo dall'altra parte. Noi, aggrappati alla corda, ci sosteniamo. È un dono di Dio. Perché noi non potremo mai avere la speranza con le nostre forze. Dobbiamo chiederla. La speranza è un dono gratuito che noi non meritiamo mai. È dato. È donato. Nella celebrazione che si conclude con la preghiera davanti alle tombe dei pontefici defunti, il Santo Padre invita a fare proprie le parole di Giobbe durante la visita ai cimiteri. Io so che il mio Redentore vive e io lo vedrò io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. È questa la forza che ci dà la speranza. Che il Signore ci la dia a tutti noi. Come affrontare il mistero della morte oggi in questo tempo? È la domanda pronunciata dal Vescovo oggi in Cattedrale durante la Santa Messa per la commemorazione dei fedeli defunti. Monsignor Tanasini ha messo in luce che la morte non è la fine. È un passaggio alla vita perché nessun uomo per Dio è perduto. Ascoltiamo un brano. Vediamo. Se la morte è la fine e dopo non c'è nulla, allora perché non dobbiamo togliere la vita a chi soffre, a chi è di peso? C'è una sottile logica nel nostro modo di parlare della morte ed è una logica di morte. Mentre noi siamo invitati a guardare la morte come passaggio, passaggio. Passaggio alla vita. E allora ecco, questa nostra celebrazione è una celebrazione per la vita. La speranza non delude, ci ha ricordato l'Apostolo Paolo. La speranza non delude. Questa nostra celebrazione è una celebrazione di speranza, di gioia. La vita donata una volta dal Padre non viene mai ritirata. Dio è fedele. Nella solennità di tutti i Santi, il Vescovo Tanasini ha esortato i fedeli a distogliere lo sguardo da loro stessi per elevarlo verso il cielo. Solo così si può pregustare la pienezza della vita eterna dopo la morte. Monsignor Tanasini ha indicato l'esempio del Beato Carlo Acutis, quindicenne prematuramente scomparso, recentemente elevato agli onori degli altari. Vediamo. È un'immagine gloriosa e di festa, quella tratta dal libro dell'Apocalisse che narra la visione di Giovanni, una moltitudine immensa avvolta in vesti candide con in mano rami di palma, posta davanti al trono di Dio. Ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia, ha spiegato il Vescovo Alberto Tanasini, nella solennità di tutti i Santi, viviamo questa grande festa, anche nel tempo presente che ci sopraffa di impegni e di preoccupazioni. A quella meta, a cui siamo tutti chiamati, si arriva dopo grande tribolazione. E la grande tribolazione per Giovanni è la grande persecuzione. Tutti hanno nelle mani delle palme, quelle che noi chiamiamo le palme del martirio. Ma la grande tribolazione è anche la nostra esperienza, che è chiamata ad avere il suo sbocco nella gloria. La gloria della vita beata, ha quindi sottolineato il Vescovo nella celebrazione preseduta in Cattedrale a Chiavari, c'è già anche nella prova che stiamo vivendo in questi giorni. Che il nostro cammino sulla terra certo è provato, ma niente può spegnere quella luce, quello sguardo di speranza, quella bellezza dell'incontro con il Padre che sta nei Cieli e con i fratelli. Ecco, fare la festa dei Santi vuol dire guardare in questa direzione, vivere con certezza questa vocazione. La riflessione sul Vangelo delle Beatitudini ha suggerito a Monsignor Tannasini la figura di Carlo Acutis, 15enne elevata agli onori degli altari, nelle scorse settimane. Noi pensiamo che oggi non ci sia più strada di santità, detto il Vescovo. Non è vero. Il beato Carlo Acutis è stato appieno un ragazzo del suo tempo, affascinato da Gesù Cristo. Sapeva gettarsi nella mischia, cogliere tutte le ispirazioni. Aveva compreso che per non essere tristi, occorre distogliere lo sguardo da noi stessi e rivolgerlo verso l'alto. Spostando lo sguardo troviamo il principio della vita beata. Nella solennità di tutti i Santi il Papa all'Angelus è invitato a riflettere sulla loro testimonianza che per noi è fonte di speranza nella risurrezione e modello di un cammino fondato sulle beatitudini che possiamo percorrere tutti in modo unico e irripetibile con l'amitezza di cui il mondo oggi ha tanto bisogno. Il servizio dal Vaticano. Cristo è risorto e anche noi saremmo con Lui, saremmo con Lui. I Santi e i Beati sono i testimoni più autorevoli della speranza cristiana. I Santi sono veramente felici perché hanno scoperto il segreto della felicità autentica. Essi sono i testimoni più autorevoli della speranza cristiana perché l'hanno vissuta in pienezza nella loro esistenza tra gioie e sofferenze attuando le beatitudini definite da Francesco la via della santità. Nella solennità dei Santi il Papa Francesco all'Angelus si sofferma in particolare su due beatitudini. Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati e beati i miti perché avranno in eredità la terra. Se nella prima Gesù proclama beati proprio a coloro che piangono perché spiega al Papa nonostante tutto, nonostante la morte, la malattia, le avversità morali, il peccato e gli errori confidano nel Signore e si pongono sotto la sua ombra. Nella seconda Gesù esalta coloro che sanno dominare se stessi, che lasciano spazio all'altro, lo ascoltano e lo rispettano nel suo modo di vivere, nei suoi bisogni e nelle sue richieste, cosa sempre più rara nella vita di oggi. Anche questa beatitudine comincia qua giù e si compierà in Cristo. L'amitezza. In questo momento della vita, anche mondiale, dove c'è tanta aggressività, e anche nella vita di ogni giorno, il primero che esce da noi è l'aggressione, la difessa. Abbiamo bisogno di mitezza per andare avanti nel cammino della santità. Cosa trarre dunque da queste beatitudini, da questa strada evangelica percorsa da santi e beati? Innanzitutto, conclude il Papa, che tutti siamo chiamati a percorrerla, ciascuno nel suo modo personale. Ognuno ha la propria personalità e ha sviluppato la sua vita nella santità secondo la propria personalità. Ognuno di noi possiamo farlo, andare su quella strada. Mitezza, mitezza per favore e andremo alla santità. E al termine della brighiera mariana, dell'Angelus e Francesco ha pregato per quanti da giorni sono in pericolo a causa del conflitto nel regione del Nagorno, Karabakh, tra Armenia e Azerbaijan, dove la tregua raggiunta risulta troppo fragile. Un pensiero poi anche alle popolazioni colpite dal terremoto del Maregeo. Vorrei rinnovare il mio accorato appello ai responsabili delle parti in conflitto affinché intervengano quanto prima possibile per fermare lo spargimento di sangue innocente. Non pensino di risolvere la controversia che si oppone con la violenza, ma impegnandosi in un sincero negoziato con l'aiuto della comunità internazionale. Da parte mia, sono vicino a tutti quelli che soffrano e invito a chiedere l'intercessione dei Santi per una stabile pace nella regione. Preghiamo anche per la popolazione dell'area del Maregeo, che due giorni fa sono state colpite da un forte terremoto. Ora l'aggiornamento dei dati per quanto riguarda il coronavirus in Liguria. Oggi, come tutti i lunedì, si risente dell'effetto weekend. I nuovi casi sono 599, ma i tamponi effettuati 2846. I guerriti sono 430 e i deceduti sono 9. Si tratta di 4 donne e 5 uomini morti tra il 30 ottobre e domenica 1 novembre al San Martino di Genova. Sale ancora il numero degli ospedalizzati, più 47 rispetto a ieri. Il totale in Liguria di 1.190 ricoveri. Scendono invece le terapie intensive, che oggi sono 57. In Asale 4 Chiaverese ci sono altri 6 ricoveri a Sessi Levante, 92 in totale. E 3 a Lavagna, 14 in totale, di cui 3 terapie intensive. In sorveglianza attiva ci sono tuttora 651 pazienti. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 66 nuovi casi di positività al coronavirus nell'Asel 4 del Tivulio. 6 sono dovuti a contatti di caso e 36 da segnalazioni. Il dato tiene conto del minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana. L'azienda sanitaria chiavarese segnala anche due nuovi decessi. Una donna, 87enne di Cicagna, e un uomo, 68enne di Chiaveri. Entrambi morti all'ospedale di Sessi Levante. Al centro dell'attenzione, nella gestione dell'emergenza Covid-19, ancora una volta, ci sono le strutture assistenziali, RSA e centri per persone fragili. Numerosi contagi si stanno registrando in alcune realtà anche del territorio. Oltre a questo problema, resta da risolvere quello della carenza del personale infermieristico e socio sanitario. Sentiamo. Se probabilmente nella prima ondata tutti noi ci davamo l'obiettivo, non sempre facile da perseguire, di tenere il virus fuori dalle strutture, oggi oggettivamente l'obiettivo si è trasformato in una gestione adeguata delle positività che inevitabilmente incontriamo. Evitare l'ingresso del Covid all'interno delle strutture protette e quando questo purtroppo avviene, limitarne al massimo la diffusione tra ospiti e personale sanitario. La seconda ondata dell'epidemia sta ancora una volta mettendo a dura prova residenze per anziani e centri per disabili e soggetti con fragilità. Nel Tiguglio sono alcune le realtà nelle quali il coronavirus è riuscito a entrare e contagiare persone e operatori, ma questa non è l'unica difficoltà che le strutture oggi devono affrontare. Ed è la carenza di personale, in particolare il personale infermieristico. In questo momento noi purtroppo stiamo assistendo da spettatori passivi a tutta una serie di bandi e di chiamate da parte di ospedali, di Asle e della stessa Lisa, sia di infermieri che di operatori sociosanitari e a volte chi risponde a questo brando sono operatori dei servizi privati. Martedì scorso la Regione ha predisposto un'ordinanza che permette il dislocamento nelle RSA di personale in forze ad Alisa. In attesa che venga data attuazione a questo, il problema rimane. Di qui la richiesta delle federazioni che rappresentano gli enti del settore servizi socioassistenziali di un incontro per definire un percorso condiviso che permetta a questi di garantire la qualità del servizio offerto. Sempre nei giorni scorsi la Regione ha pubblicato un bando per individuare alcune strutture nelle quale dare assistenza agli anziani dimessi dagli ospedali perché in buone condizioni, ma ancora positivi al Covid. Assolutamente nessuna RSA dovrà o potrà accogliere persone dimesse ancora positive al coronavirus. Lo potranno fare solo quelle dedicate e scelte appositamente dal bando. Nelle RSA tradizionali con un tampone positivo oggi non si entra. Regione Liguria, Alisa per la precisione, ha fatto un bando alcuni giorni fa a cui hanno partecipato numerose strutture che dispongono delle caratteristiche adeguate per poterlo fare. Non mi pare che in AS4 nessuna struttura si sia resa disponibile e quindi di conseguenza nessuna struttura farà questo tipo di attesa. Riparte a Sessi Levante il servizio di sostegno da parte del Comune al personale sanitario impegnato nella cura dei pazienti colpiti dal Covid nel reparto dell'ospedale cittadino. Da mercoledì a disposizione di medici e infermieri i primi 20 posti in una struttura alberghiera. Ripartono anche i servizi di assistenza telefonica alla cittadinanza. Vediamo. Ancora una volta il Comune si fa vicino agli operatori sanitari che vivono e combattono in prima linea. In che modo? Sì, abbiamo percepito la difficoltà del momento, il fatto che l'ospedale si sta riempiendo e anche sono tornate le segnalazioni degli operatori sanitari che passano molte ore nella struttura e hanno bisogno poi di uno spazio dove riposare in sicurezza soprattutto per garantire la sicurezza delle loro famiglie. E quindi anche grazie alla disponibilità di una struttura alberghiera abbiamo messo a disposizione nuovamente 20 posti letto, 20 camere, i cui costi sono sostenuti sicuramente per il primo mese dal Comune di Sesto Levante e poi vediamo insieme come procedere per consentire appunto a medici, infermieri, operatori sanitari di avere questa possibilità. Già nella prima edizione di questa iniziativa erano state coinvolte anche altre strutture. L'appello del Comune è quello di allargare la disponibilità per rispondere eventualmente ad ulteriori richieste. Sì sicuramente nel momento in cui dovessero esaurirsi le disponibilità noi speriamo di attivare altre strutture e quindi già da adesso rivolgo un invito sia a strutture alberghiere ma anche a appartamenti privati a offrire questa disponibilità al Comune perché provvederemo a mettere a disposizione anche questi spazi aggiuntivi e che il Comune poi come nella precedente tornata aveva provveduto a far sanificare e insomma a gestire nel massimo della sicurezza possibile. Il Comune poi pensa anche ai residenti positivi al Covid in quarantena a casa ma anche agli anziani. Abbiamo riattivato tutta una serie di servizi messi in campo durante il lockdown a partire dalla spesa a domicilio sicuramente rivolta alle famiglie che sono in quarantena che non hanno la possibilità di uscire, non hanno persone che lo fanno per loro ma rivolta anche agli anziani soli. Per notare questo tipo di servizio ci si può rivolgere al numero 320-437-0025 dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì e ancora abbiamo riattivato il servizio di compagnia telefonica anche quello chiamando lo stesso numero che ho indicato prima. Hanno preso il via a Rapallo alcuni interventi di pulizia delle reti bianche che interesseranno diverse zone del territorio cittadino. In Corso Italia un mezzo operativo per asportare sabbie e detriti che si sono accumulati nel canale di regimazione delle acque bianche. I lavori proseguiranno fino a Piazza Cavour per poi procedere nel tratto pedonale di via Mameli. Verrà eseguita inoltre anche la sostituzione dei marmi e nelle marciapiede antistante la Basilica dei Santi, Gervasio e Protasio, ormai diventati scivolosi. Proseguono anche i lavori di restaring del Parco Canessa, nel centro, mentre sono ai blocchi di partenza 20 microcantieri che interesseranno la pubblica illuminazione di diverse frazioni. Il comitato di Fendi Rapallo chiede che venga inserito un suo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione del Porto che dovrà gestire la prossima fase di transizione dello scalo turistico. Una nomina che garantirebbe tutta la trasparenza necessaria alla comunicazione che i residenti e ospiti necessitano. Così spiega il portavoce Andrea Carrannante. Tale nomina, inoltre, sarebbe un gesto di apertura e di confronto rispetto alle posizioni ambientaliste che esigono garanzie per il progetto. È un progetto per ristrutturare la piscina del Lido di Chiaveri stato presentato al Comune e porta la firma dell'architetto Enrico De Carlo che ha costituito un gruppo di lavoro con professionisti locali e aziende nazionali. Il piano prevede il recupero della struttura dell'ex piscina olimpionica che da tempo versa in condizioni di abbandono e degrado. Vediamo. Due vasche, una olimpionica e una per le attività benessere, locali per spogliatoie e servizi, spazi per le associazioni sportive, una zona a base di storo. Così è stata immaginata la piscina del Lido di Chiaveri nel progetto di ristrutturazione presentata al Comune dall'architetto Enrico De Carlo insieme ad un team di lavoro che ha coinvolto professionisti locali e società nazionali del settore. Il piano di lavoro prevede il recupero della vecchia vasca olimpionica all'aperto e lo stesso vale per tutti i locali legati al suo utilizzo. Al posto della tribuna Lato Mare poi saranno costruiti una vasca 25x5 per i corsi di fitness e il riscaldamento degli atleti e un nuovo volume che sarà dedicato alle società sportive e ad un'area di storo per gli spettatori. Il nuovo impianto, nelle intenzioni del Comune, sarà gestito dalla chiave di nuoto e avrà un utilizzo di circa 5 mesi l'anno. Dopo 90 giorni possiamo dire se il progetto è fattibile e per questo incaricheremo un consulente giuridico, un consulente finanziario per vedere se i numeri sono a posto e un consulente tecnico per vedere se gli impianti sono a norma. Se i prezzi sono conformi a quanto previsto per le opere pubbliche l'amministrazione potrà mettere in gara questo progetto. Se tutto questo avverrà, hanno 365 giorni stando all'offerta che hanno fatto per realizzare l'opera e salvo penali, per cui se tutto andrà come dovrebbe andare entro il 2022 potremo riavere quindi in meno di due anni la piscina dell'Ido completamente ristrutturata. Il costo totale dell'intervento è poco inferiore ai 4 milioni di euro. Sarà finanziato da banca e crea secondo la modalità del leasing costruendo. L'istituto paga i costi di costruzione, mentre il Comune verserà poi un canone mensile quando l'opera sarà terminata, senza avere sugli sé il peso di possibili aumenti di costi o problematiche legate alla realizzazione. L'impianto dell'Ido, una volta riqualificato, potrà essere un punto di riferimento per gli sportivi del comprensorio con la sua vasco limpionica, ma non andrà a sostituire la piscina comunale di Largo Pessagno. Che rimarrà sempre aperta perché ha dei grossi numeri importanti nel progetto che è stato presentato dalla piscina all'Ido sarà la chiave a rinuoto che pagherà un canone al Comune per la gestione di questa piscina. Per cui sinergia, piscina in centro rimarrà e quella all'Ido per cinque mesi all'anno sarà aperta. Sono iniziati questa mattina i lavori a Santa Margherita Ligure per liberare dai detriti il ramo sinistro del torrente San Siro e ampliare l'accesso all'alveo del torrente. Un intervento da circa 70 mila euro che permetterà di rimuovere il materiale accumulatosi con le mareggiate dello scorso 2 ottobre e a portare una modifica strutturale che in futuro permetterà di pulire l'alveo del corso d'acqua usando mezzi meccanici. Nello specifico sarà demolita una parte di soletta del parcheggio di Piazza Vittorio Veneto per ampliare la griglia che permette di accedere al greto del San Siro. L'ultima mareggiata di inizio ottobre ha nuovamente danneggiato la passerella che collega Santa Margherita Ligure con Paraggi che era stata rifatta dopo la grande mareggiata di due anni fa. Ora l'idea dell'amministrazione comunale è quella di realizzare almeno un tratto della struttura con la parte in legno ribaltabile per preservarla dalle forze delle onde. Vediamo. È uno dei luoghi più suggestivi del Tigullio. La strada che collega Santa Margherita Ligure con Portofino teatro per ben 15 volte della mezza maratona delle due perle è esposta a mareggiate che ormai non si può più definire eccezionali. E così a inizio ottobre la forza delle onde l'ha nuovamente danneggiata ma questo non scoraggia i suoi numerosissimi visitatori. È bellissimo. Sì molto molto. Soprattutto d'estate si fanno delle bellissime passeggiate. Sono in Santa Margherita faccio Paraggi, Portofino la faccio sempre ieri, l'ho fatta oggi un po' meno. E da quando le palestre sono chiuse per forza non ci sono altre soluzioni col padoramo però siamo anche fortunati dai non ci possiamo lamentare. L'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha dato in carico alle ditte per sistemare i tratti meno danneggiati quello fra Caponord e la Carega e quello fra il castello e la Baia di Paraggi. Il tratto più esposto e più danneggiato è quello centrale. Sì ancora? Già magari terza volta quando io già cammino qui. Sì, il problema è necessario fare più preciso diciamo perché il fatto non è bene magari. Sì non è in funzione. Dopo l'amareggiata e adesso di nuovo sì. Non è in uso, niente. È un problema serio perché passi in mezzo alla strada però... Quel punto lì è pericoloso? Abbastanza. Andando così fuori è un po' pericoloso comunque. Ci farà un po' di tempo, non so io... Ci sono altre questioni magari. Ci sono ancora dei lavoretti da fare però rispetto a quella precedente niente di che mi viene da dire. Dai, con poco si dovrebbe risolvere. La scheda con il conteggio dei danni è stata inviata il 30 ottobre in Regione ma l'idea è quella di realizzare almeno un tratto della passerella con la parte in legno ribaltabile con l'obiettivo di lasciare sfogo al mare senza mettere a rischio la parte della struttura più fragile. Insomma, la passerella verrebbe ribaltata quando le previsioni danno mareggiata forte un'idea in linea con la parola d'ordine di due anni fa, resilienza per un territorio che dopo una stagione estiva al di sopra di ogni più rosea e aspettativa oggi soffre per il Covid. Si è svuotato tutto i primi di ottobre completamente già a metà settembre con la chiusura dalla Svizzera da parte loro e poi l'ottobre è completamente vuota. Sono trascorsi due anni esatti dalla mareggiata che ha ferito profondamente Portofino, Santa Margherita, Rapallo, Zoagli e Sesti Levante nella nostra trasmissione direttamente su torneremo su quanto è stato fatto e su quello che resta da fare questa sera 21.10 in diretta Telepace 1 al Canale 15 Commemorazione dei defunti in forma ristretta oggi a Chiavari la tradizionale cerimonia del 2 novembre con deposizione delle corone al campo militare al cipo dei fucilati del cimitero monumentale si è svolta nel pomeriggio nel rispetto delle disposizioni anti-contagio. Oggi, ha detto il Sindaco, ricordiamo i nostri cari defunti, rendiamo onore ai caduti per la patria e rivolgiamo soprattutto una preghiera alle vittime del Covid-19 alle famiglie che non sono riuscite a salutare i propri affetti. Domani Genova, a 77 anni di distanza, farà memoria della deportazione degli ebrei di Genova iniziata il 3 novembre del 1943 una delle date più buie nella storia della città. Una memoria che la comunità di San Degidio e la comunità ebraica di Genova insieme al Centro Culturale Primo Levi hanno custodito in questi anni coinvolgendo non solo le istituzioni ma tanti genovesi in particolare le giovani generazioni per ribadire il no a ogni forma di antisemitismo e di razzismo. Alle 18 si riuniranno nella Sinagoga di Genova Giuseppe Momigliano, Rabino, capo di Genova, Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, Marco Bucci, sindaco della città, Ariel dell'Ostrologo, presidente della comunità ebraica genovese, Andrea Chiappori, responsabile della comunità di San Degidio in Liguria. Per motivi legati alla pandemia non ci sarà la tradizionale marcia ma sarà possibile seguire l'evento esclusivamente in diretta streaming sul sito www.santegidioliguria.org e sul canale YouTube della comunità di San Degidio Liguria. Ora le altre notizie della giornata nelle Punto News. La regione ha varato dei voucher da 250 euro per gli over 75 per l'utilizzo dei taxi. L'obiettivo è ridurre il rischio contagio e alleggerire il trasporto pubblico locale. Si tratta di una carta prepagata che potrà essere impiegata a partire dal 9 novembre e dovrà essere spesa entro il 30 giugno 2021. Il termine per presentare la domanda attraverso lo sportello online sul sito Filse è il 31 dicembre 2020. La promo tour di Chiavari quest'anno si farà carico delle luminarie natalizie del centro storico cittadino. L'intenzione è quella di non rinunciare a illuminare la città togliendo un peso dalle spalle del tessuto commerciale cittadino già fortemente provato dalla pandemia e dal lockdown. I corpi bandistici del Tigulio Golfo Paradiso e Dentroterra hanno fatto una riunione online per fare il punto dell'attività nell'attuale situazione sanitaria. Durante l'incontro è emersa la volontà condivisa di proporre un'esibizione natalizia a distanza suonando ognuno da casa e registrandosi in videochiamata. L'osservatorio Raffaelli di Casarza Ligure propone un corso base di meteorologia e idrologia. Sarà aperto a tutti e non verranno richiesti i requisiti di esperienze lavorative o formative pregresse. Possono aderire anche semplici appassionati o curiosi verso questa materia. Sono previste 20 lezioni di teoria e 6 lezioni pratiche. C'è tempo ad iscriversi sino al 4 novembre. 5 pitrici del Tigulio hanno partecipato al progetto collettivo Human Cinetics inviando un'opera su stoffa o carta con sopra scritto o dipinto un testo sul personale significato di essere donna. I ritagli faranno parte di un'unica opera che sarà esposta in una delle principali gallerie d'arte di New York. Le 5 tigulline ad aver partecipato sono Antonella Tiozzo, Maria Cristina Rumi, Federica Papapietro, Giovanna Cademartori e Roberta Bagliardi. Gara di torte online per la castagnata organizzata dall'Associazione Culturale Parco delle Fontanine a Rapallo. Non potendosi svolgere in presenza, l'associazione ha deciso di proporre una gara dal titolo Immaginando il gusto aperta a soci e non soci. Si potrà partecipare sino al 15 dicembre all'indirizzo e-mail gara di torte fontanine chiocciolalibro.it inviando una foto del dolce, una breve descrizione e l'elenco degli ingredienti. La giuria sarà composta da un pasticcere e tre componenti del Consiglio Direttivo. Una notizia di cronaca. Un 21enne straniero è stato denunciato dai carabinieri di Sesti Levante per furto aggravato e violazione delle norme sugli immigrati. Le indagini sono parite dalla denuncia sporta da una 39enne straniera che segnalava il furto di un monopattino elettrico dal valore di 500 euro. Il ragazzo è stato individuato con l'ausilio delle immagini registrate dall'impianto di video sorveglianza comunale. E infine prosegue il piano di chiusure notturne programmate in A12 per svolgere interventi di manutenzione e ispezione sulla rete autostradale. Traffico interdetto al casello di Lavagna in entrate e uscita verso il capoluogo dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì 3 novembre. Questa era l'ultima notizia del giornale. Prossimo appuntamento domani 12.45 Tiguglio oggi. Questa sera l'appuntamento con si può dare di più dalle 21.15 si parlerà e si farà soprattutto memoria di tutto quello che è successo due anni fa con la mareggiata del Tiguglio presenti anche dei sindaci. Vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente. Arrivederci. a superiore